Oggi parliamo dei due tipi di felicità. Eravamo in un bar alla stazione di Regimiglia quando il mio maestro Frido Mezzin mi chiese di guardare le persone intorno a me e mi disse dimmi chi secondo te è davvero felice tra queste persone, osservale con attenzione. Io lo feci a un certo punto convinto di avere la risposta giusta, disse ecco vedi quelli a destra, alla nostra destra e lui disse sì però non farti accorgere, non fartene accorgere che li stai osservando, parla a bassa voce e io così feci e dissi al mio maestro quel ragazzo a destra lì con quella ragazza la guarda in maniera estasiata, le sorride, gli occhi gli brillano e continua a usare parole come grandioso, meraviglioso, straordinario. Si muove moltissimo, ha un tono della voce gioioso, una timbrica squillante. Quello è davvero un ragazzo felice in questo momento. E poi mi girai verso sinistra, sempre in maniera sottile per non farmi accorgere da chi stavo osservando e dissi ecco vedi quella signora anziana lì vicino alla porta, quella signora che legge un libro e anche quando è arrivato il cameriere che voleva in qualche modo farle un po' di compagnia cercando di fare due chiacchiere l'ha liquidato con un certo e con un leggero sorriso per poi ritornare a leggere il suo libro. Ecco vedi quella signora che ogni tanto ahimè sorride senza motivo guardando così nel vuoto, ecco quella è una persona infelice probabilmente perché è una persona depressa. E Frido mi disse bravo due su due, due risposte sbagliate su due risposte. Quel ragazzo alla tua destra in realtà non è felice o meglio, non è davvero felice. Quel ragazzo alla tua destra è in qualche modo eccitato, stimolato dalla presenza della sua compagna. La sua compagna è come un idolo che lui sta idolatrando. Quella signora alla tua sinistra in realtà è tranquilla, è davvero felice, tant'è che per sorridere non ha bisogno di nessun altro, lo fa anche da sola e non ha neppure bisogno di parlare in maniera concitata, le basta un certo, un accenno di gradimento e poi ritorna sul suo libro. Allora vedi Rosario, mi disse Frido Mezzin, esistono due tipi di felicità, una felicità che io chiamo dipendente, è una felicità che io chiamo indipendente. La prima è quella del ragazzo, che per essere felice dipende da qualcosa fuori di sé. In questo frangente dipende dalla compagna, da quella bella ragazza. Ma se quella ragazza lo lascia o se quella ragazza va via all'improvviso senza spiegazione, cosa succede alla felicità di quell'uomo? La seconda felicità indipendente è quella che scaturisce da qualcosa interiormente, da qualcosa che possediamo a prescindere dalle circostanze, da uno stato che abbiamo raggiunto, uno stato di consapevolezza, di sensibilità e quella signora io credo stia manifestando una felicità indipendente. E tu Rosario, tu quale delle due felicità sponsorizzi di più nella tua vita? Questa domanda mi aprì un varco nelle mie introspezioni e nelle mie riflessioni, fece entrare della luce, fece entrare una maggiore lucidità rispetto ai miei processi e rispetto ai miei limiti. E da quel giorno cominciai a rendermi conto di quando agivo in base ad una felicità dipendente o di quando agivo in base ad una felicità indipendente. E dovresti farlo anche tu, chieditelo, oggi, in base a quale felicità stai agendo, scegliendo, facendo, muovendo le tue scelte. E ieri e soprattutto domani non è detto che bisogna soltanto, non ho detto che bisogna soltanto agire in base alla felicità indipendente, perché quella è più difficile da raggiungere ed è più faticosa da mantenere. Però non bisogna esagerare con la felicità dipendente, perché quella, come diceva Frido Mezin, è un puro godimento transitorio, che poi ti lascia la mano in bocca quando scompare. Grazie, buona vita, buon tutto, buon destino, da Rosario Alfano.